Naso, 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 pacelle, naso, naso, ASMR, naso, naso, pacelle, naso, 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 pacelle, naso, mi sono preparato per avere un naso, così, così, naso, 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 naso. Sommer indecifrabile, dopo che Enzaghi era partito con Andanovic, sbagliando l'anno scorso, dopo Andanovic in decadenza degli ultimi anni, avevamo visto la luce, ho visto la luce! E invece, con la vendita di un analiter, fa un grande passo indietro, 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 naso! Il naso non mente, sul portiere sono imbarazzato, financo, audero, meglio di Sommer, lo vedremo, work in regress, ma in Sommer abbastanza fiducia, anche se mi sembra che il portiere albanese l'ha giocato meglio. Al di là di questo, un portiere che si deve abituare, una squadra prepotentemente sbilanciata in attacco e un Inter che gioca come i primi sei mesi, sette dell'anno scorso, quindi difesa, sbarazzina e pasticciona e attacco sfortunato, ma anche inconcludente, nel senso che in certe occasioni le devi trasformare in gol. Difesa? Bastoni un po' disattento, poi in fase di proposizione molto bene, il lancio per Braille è uno schema del 2020 e funziona sempre. Per il resto, devrai così così, vabbè, non mi sembra un reparto difensivo, non riesco, non riesco, non riesco a mentire, non ho solo un mente, difesa da una zona del campo dove intervenire, non siamo intervenuti, sono preoccupato. Centro campo, intra la luce, 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 Stefano Sensi, Stefano Sensi, Stefano Sensi la luce, si accende la luce, la luce, si accende la luce, spengo la luce e accendo la luce, il calcio, il gioco del calcio naso. Naso. Entra Stefano Sensi, si accende la luce sull'azione di quel rigore che Lautaro si è procurato facendo un tuffo vergognoso, perché noi siamo interisti, lo diciamo, e qualcosa di meraviglioso anche in occasione dell'altro gol e di altre situazioni. Stefano Sensi accende la luce a quanto sembra, dalle cronachele loro, potrebbe essere inserito nell'operazione che porta Arnautovic, Arnautovic, una foto di Arnautovic, all'Inter. Potrebbe fare i video naso. Nell'operazione di Arnautovic da 10 milioni potrebbe esserci dentro Sensi. Altro che video naso, vorrei sboccare in diretta per questa operazione. Sensi è il calcio. Sensi è il calcio. Non lo puoi dare via. Non lo puoi dare, ti devi opporre, opporre. Sensi va via per il bilancio? Bene. Se sei l'allenatore e lo vedi forte, se i tuoi assistenti lo vedono forte, vai e dici quanto vi cuba Sensi, ma qualche milione ve lo do io, ma Sensi rimane qua, perché mi toglie le castagne dal fuoco e Ottobre è vicino e le castagne sono quasi pronte. Sensi deve rimanere, Sensi con la fascia, Sensi luce, Sensi faro, Sensi l'unico giocatore che cambia passo, che sa fare più. Io non lo so veramente come devo dirlo. Non so più che lingua. Lo devo dire in cinese. In cinese? Meglio di no. Ciala, un po' pasticcione. Non è la prima volta. Deve reggere tutto il centrocampo quando si gioca nella fase poi di impostazione. Donnebrozo. È meglio in tante cose. In altre cose non può, può solo imparare da Broso. Io adoro Ciala. È uno dei miei cacciatori preferiti, ma il video naso non mente. Aslani, incerti frangenti. Questo Aslani, molto cazzuto e motivato come lo stesso Sensi, che se ti dicono, oh, Sensi sai che si rompe sempre? Uno dice, boh, a me è sembrato più impante e forte. Entrati in campo col Paris Saint-Germain sul campo più brutto del mondo. ha fatto un stop di tacco in mezzo al fango con due infortunati, scusa del PSG di Salisburgo, con due infortunati purtroppo del Salisburgo e Stefano Sessi che correva come Gesù Cristo sull'acqua. Gesù Cristo redentò. Vabbè. Se oggi uno arriva da Marte e dice, cazzo, come ti pare l'Inter dell'Amichevoli? Uno ti risponde, guarda, non lo so, mi intendo di calcio, però c'è un giocatore che si chiama Sensi col 12 che è straordinario. Questo è fattuale, 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 fattuale. Naso non mente mai, 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 non mente mai. Mkhitaryan bene, Marella bene. Dopodiché sulle fasce probabilmente giocheranno presto Carlos Augusto e Quadrado, e non Danfries, che comunque ha giocato benino, e Di Marco, che Di Marco è Di Marco, quindi abbastanza bene. Lautaro è capitano, senza Lukaku o Gieco perde molto, è un miracolo quello che riesce a procurarsi, quindi stima per Lautaro, tranne che per i vigori così, non mi piacciono quelle cose da interista. Lautaro fa tanto, fa i miracoli perché è da solo. Turan, colpo di testa bene, tutto il resto, qualche appoggio, per il resto male. È scivolato, come Massimo Boldi, nel film Io tigro, tu tigri, egli tigra. Sono scivolato. Pasta fatta in casa, con sugo fatto fuori. Poi scivola. Andate a rivederlo, bellissimo. Sono scivolato. E poi gli tira le scarpate. Anzi no, prende le scarpate dalla padrona di casa. Pasta fatta in casa, con sugo fatto fuori. Io tigro, tu tigri, egli tigra. Quella puntata in cui, quell'episodio in cui c'è anche la trattoria derby, con un pozzetto che vuole entrare, vabbè. E dice piena, si dice piena, piena, piena. Gli apre e c'è dentro San Siro col derby. Quindi Turan rimandato e sbaglia alcune cose facilissime. Scivola. Sono scivolato. Sono preoccupato. Arriva Arnautovic, che come quarta punta va bene. E se Correa è quello del dribbling sotto porta, allora va bene come terza punta. E Arnautovic quarta. Arnautovic ha avuto qualche cazzo con Motta, però l'anno scorso 20-23 partite, parecchi gol, 10-11. E a quella cifra è folle, però tant'è che per me Arnautovic potrebbe fare bellino. Sembra ieri che rubava la macchina a Eto' e oggi potrebbe essere pagato 10 fischioni per tornare da noi. Per quanto riguarda tutti quelli che sono entrati, mi sono sembrati meglio anche l'Alzo nel quadrato di quelli che erano in campo. Quindi Inzaghi sono sicuro che farà giocare la formazione nel primo tempo qua, vista a Ferrara, e poi avrà questi cambi. Vediamo. Se si non rimane una vergogna, e per il resto devo chiudere col mercato. Naso, 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 il mercato, mercato, naso. Samarzic è tornato a Udine. Non è una bella mossa, anche perché sembra che Fabiano sia tornato a Milano. Cioè, una roba che in confronto spilanzò l'Appolitano. No, non lo so. Non lo so. Va bene, non prendiamo Samarzic. Rimane Fabiano, rimane Sensi, che cazzo succede? Se rimane Sensi, io sono felice. A patto che i soldi risparmiati poi vadano a essere investiti su due figure. Un bomber, una punta, un punteros che faccia gol, e un difensore che abbia corsa e che riesca a rinculare velocemente quando c'è da rinculare. Inzaghi, voto basso, non mi è piaciuto. Ho visto tante cose dell'Inter che ha fatto male l'anno scorso. Ho visto zero cose dell'Inter che ha fatto bene l'anno scorso. Quando la difesa era piantata dietro, quando c'era molta più palla che girava in mezzo al canto, c'era più pazienza, c'era sempre verticalizzazione, ma non così esasperata con i giocatori che andavano a prestare altissimo. Bare, bare! Ogni secondo gli diceva di prestare. Anche il novantesimo ha chiesto ad Aslali di prestare. Non lo so. Un inzaghi europeo, quando il campionato era così, non lo vincerai mai. Se lo vince perché giochi come hai giocato l'ultima parte del campionato. Vedremo col Monza come giocheremo. Paladino è uno che fa la strada, è bravo, è un tecnico, è molto preparato e non dobbiamo scherzare. L'anno scorso il Monza ci ha levato cinque punti su sei, quindi mi auguro che tra mercato e formazione, approccio e tattica si torni all'Inter di fine anno dell'anno scorso, dalla prima guerra in poi, che mi piaceva molto. Forza Inter sempre. e naso, 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 naso. Naso.